Interfaccia, bypassa i protocolli, attiva il programma di addestramento per il sergente Rex Power Cold. Ricevuto, caricamento tutorial, navigazione militare per ritardati, autoriposizione armi per approccio silenzioso. Brutto pezzo di merda. Brava di verdici! Per effettuare un salto, salta. Spider, io ti odio. Accucciati per abbassarti. E fatemi ammazzare gente, cazzo! Guardati in giro per guardarti in giro. Mi piace per niente. Muoverti ti permette di vivere emozionanti avventure. Perché? Correre è un po' come camminare, ma è più veloce. Cazzo! I tutorial ostacolano la tua voglia di massacro. No, non, 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 non